Nel corso di un intervento pubblico, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha sottolineato che la ripresa economica sta migliorando e guadagnando forza, anche da un circolo virtuoso tra consumi in rialzo, crescita dell'occupazione e redditi da lavoro. E' praticamente per una prima volta dall'introduzione dell'euro che la spesa sale mentre l'indebitamento scende. Il contributo è sempre stato decisivo per il successo della riduzione di un debito. I salari italiani intanto a febbraio hanno registrato una crescita più bassa da 35 anni, sediando una riapertura della formice con l'andamento dei prezzi dopo anni di tenuta del potere d'acquisto che è favorita della bassa inflazione. Le affermazioni del presidente della BCE mettono in evidenza anche la necessità di crescita degli stipendi per far ripartire i consumi che arrivano in un momento in cui l'Italia sconda il blocco degli stipendi pubblici da sette anni e un gallo significativo della produttività a fonte di una inflazione in ripresa. Mimmo Sena, Speciale News.